Si è conclusa la campagna abbonamenti dell'US Avellino, sold out solo la curva sud, mentre gli altri settori presentano ancora dei posti vacanti. Questa volta il pubblico irpino è stato un po' più timido della risposta, complice anche la situazione epidemiologica e anche il disinteresse che sta accorpendo il calcio italiano. Purtroppo è da evidenziare un trend negativo negli stati, anche sotto il profilo delle campagne abbonamenti, che con le dovute eccezioni dovute alle dimensioni degli impianti sportivi non hanno registrato il sold out. Intanto, in vista della gara contro il Latine in programma domenica 12 settembre alle ore 20.30 presso lo stadio Partenio, la società ha avviato la vendita dei biglietti. Priorità ai possessori di Fidelity Card che solo oggi, giovedì 9 settembre, potranno acquistare il Tagliando con diritto di prelazione. Da domani, venerdì 10 settembre, la vendita sarà libera. Ovviamente, visto l'impegno serale contro la formazione pontina, ci si augura anche una buona risposta da parte del pubblico. È fondamentale che gli spettatori tornino a Partenio spingendo i propri tifosi. Intanto, si aspettano novità per quanto riguarda il ritorno della Curva Sud sugli spalti dell'impianto sportivo di Via Soccolari. Il tifo organizzato sta meditando il possibile ritorno, un dietrofront che fa ben capire l'amore verso questi colori dopo un anno e mezzo di proteste contro il sistema introdotto per l'accesso agli stadi. Nulla di definito, ma ci si augura di rivederli prima possibile sui gradoni dello stato di Partenio Lombardi.